Attenzione puntata sul depuratore di Pescara che si inserisce nel tema caldo del momento, il mare inquinato. Se infatti la battaglia aperta da Regione Comune punta a stanare tutti gli scarichi fognari abusivi che sversano sul fiume, la preoccupazione adesso si rivolge alla portata del depuratore che si trova un carico eccessivo di lavoro da smaltire, causa aumento demografico. Dagli originari 140.000 abitanti per i quali era stato realizzato, oggi invece se ne contano 300.000. Ci sono problemi quando ci sono le piogge, ma questo c'era prima e c'è anche oggi. Si prende comunque atto della saturazione ormai dell'attività depurativa del depuratore di Pescara che non è più in grado di sopportare i carichi del Comune di Pescara, di Spoltore e di San Giovanni Teatino. E questo in ragione anche del fatto che i sistemi di raccolta delle acque sono miste, acque bianche e acque nere. Una situazione che oggi comincia a diventare un'emergenza e per questo ci sono delle risorse già stanziate dalla regione Abruzzo, ma la cui utilizzazione è negli anni 2017 e a seguire. Quello che si chiede alla regione è di anticipare questa disponibilità in modo che già da quest'anno si possa intervenire sul depuratore.